Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Civilization 5, Brave New World con la Russia. Nello scorso episodio è stata l'operazione di Day, come l'ho inventata adesso. Abbiamo fatto imbarcare tutte le nostre unità, abbiamo preparato due porta aerei con otto bombardieri della Seconda Guerra Mondiale pronti ad attaccare Sigtuna. Abbiamo tre navi da guerra che stanno raggiungendo la posizione, quindi nel giro di un paio di turni dichiarano la guerra alla Svezia e cercherò di strappare appunto Sigtuna. Non sarà semplice, nel frattempo sto producendo anche i paracadutisti e mi sto preparando la costruzione delle bombe atomiche, ma sono sicuro che ce la possiamo fare. Nel frattempo iniziamo a... Aiuto, aiuto, guardate che i Celti potrebbero vincere, o per cultura o per diplomazia? Devo stare molto attento. Devo... Ah, non posso... Sono nove caselle? No, perché si è mossa. Voglio vedere se nove caselle, però no, non basta assolutamente. Purtroppo devo spostare i paracadutisti in un gnafo. Nove caselle... Troppo lontano. Ovviamente è troppo lontano. Va bene, fortifichiamo di qui dove stanno e anche questi li portiamo qui, in attesa di diventare XCOM. Quando avremo mille, cercheremo di allearci con Gerusalemme e poi lanciamo l'attacco. Ok. Dove è l'altra colazzata? Perfetto. Siamo praticamente pronti. Se non fossi nemico di Gerusalemme avrei già lanciato l'attacco, ma voglio prima allearla per avere la copertura. Grande personaggio Shanghai. Lanciamo un'età dell'oro. e in questo turno si attacca. Se alleassi anche Chiaokia sarebbe il fantastico, però Chiaokia è off-limits. Basa Congo... Uh, anche Basa Congo è off-limits. Probabilmente stanno commerciando con queste città. Alleati. Dichiariamo guerra. Bam! Ragazzi, guerra contro la Svezia. Guerra contro la Svezia. Economicamente siamo comunque ancora forti. Non ci hanno ancora fondate tutte le nostre navi. Allora, mentre noi siamo in guerra contro la Svezia, qui continuiamo a costruire le corazzate e iniziamo l'attacco navale per, diciamo così, ripulire il mare da eventuali nemici, perché altrimenti non riusciamo ad avvicinarci. Qui vedo che gli svedesi già hanno delle navi che dobbiamo ripulire, appunto. E con questo è andato. Vediamo se portando avanti... Esatto. E questa è un'altra. Direi di essere molto cauti. Aspettiamo il turno successivo. Vediamo se la Svezia ci butta addosso altre navi. In tal caso continuiamo ad affondarle con gli aerei e con le nostre navi, perché non sarà una guerra semplice, eh. Non mettetevelo in testa, sarà una guerra difficile. Però ci siamo messi avanti. Allora, con calma, cercando di rimanere... Ecco, perfetto. Abbiamo individuato una portaria svedese con ben due aerei a bordo e questo per noi è tanta manna, perché vedete, con le nostre corazzate, indeboliamo tantissimo la porta aerei. Abbiamo appena fatto fuori una porta aerei e due aerei nemici. Mi ricordo che ne avevano tre e adesso ne hanno soltanto uno. È fantastico. Io credo di poter già attaccare Sigtuna. No, non posso perché non la vedo. Potrei attaccare Dublino, non lo voglio fare. Voglio iniziare a mandare avanti delle unità di terra. Generale anche. Sempre protette dalle navi. Cerchiamo di non essere troppo esposti, perché se questi mi fanno sbucare delle navi qui mi affondano le unità imbarcate come se fossero fatte di burro. Ok. E andiamo al turno successivo. Il turno successivo in cui abbiamo la fissione nucleare. Quindi fra quattro turni iniziamo a produrre le bombe e per ora abbiamo zero di uranio. Però fidatevi che avremo quattro unità di uranio, quindi quattro bombe atomiche che potremo imbarcare su altre tante porta aerei. Cioè, su una porta aerei in realtà. E in quel caso poi la guerra la sistemiamo. Fissione nucleare, ok. La fanteria no, la tiriamo indietro. Corazzata va un po' avanti. Questa affonda un'unità. Quest'altra riesce ad attaccare Sigtuna. Vediamo. Sapete che probabilmente sarà molto più semplice di quello che pensavo. Fidatevi. Ok. Sarà molto più semplice di quello che pensavo. Davvero. Per lo meno Sigtuna, perché come potete vedere non ci sono... Io mi aspettavo antiaerea, mi aspettavo unità più forti. Invece la superiorità tecnologica è tostissima. Programma pull a palenca, just in case. Bisogna sempre tenersi buoni altre... come si possono chiamare altre idee. Armi combinate per avere il carro armato potrebbero essere buone. Mi piacerebbe avere la fanteria meccanizzata a tre turni. Il carro armato ci si mette molto meno. Andiamo sui carri. Fanteria meccanizzata facciamo l'upgrade della fanteria normale. È potentissima. Quasi come dei carri. E non serve il petrolio se non vado errato. Ok, carrizzata libera. Questa magari la spostiamo da quest'altro lato. Sì, in cinque turni ci arriviamo velocissimi. Abbiamo perso Mombasa. Recuperiamola. E abbiamo quattro. Quattro unità di avorio. Di avorio. Ma che cazzo sto dicendo? Di uranio. Che di avorio. Gli elefanti. Guardate a secchio. Vai. Sigtuna. Adesso è sotto attacco. inizia il bombardamento a tappeto, eh. Eh, vedete che però l'antiaerea di Sigtuna risponde. Adesso meno 26. Adesso meno 19. Vedete, è sempre più debole. Meno 21. Guardate, guardate quanto è debole Sigtuna. Ragazzi. Che è lo stato fantoccio. Probabilmente se la riprenderanno. Però questo comunque mi permette di sbarcare senza troppi patemi d'animo. Ok, e soprattutto non posso, non devo più tenere attacchiere da queste parti. Forse da Stoccolma, ma... Tiwanaku, finita la corazzata, cortesemente una borsa. La vera a carico dove va? A Wittenberg. Ok, no, forse il grande generale lo faccio già sbarcare. Speriamo di aver fatto una cosa giusta. allora Sigtuna se la sono ripresi, va bene, a parte che ha otto abitanti, quindi che ce frega. Abbiamo perso un... abbiamo perso un... fanteria. Oh, finalmente abbiamo l'assedio, quindi contro le città super potente, ma guardate, basta un bombardamento navale e questa unità per riprendercela. È stato fantoccio, quindi qui adesso. Bam, iniziamo a far fuori le unità con i bombardieri. I bombardieri non hanno bonus contro le unità, ma d'altra parte è molto meglio averli contro le città. Quindi me ne frego. Assolutamente, sono anzi contento. Ok, questo è andato e adesso questo è perfetto. Quindi facendo così ora dovremmo essere in grado di garantire la difesa di Sigtuna e davvero non vedo non vedo problemi. Ok. Paracadutista. Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi. Spero di non trovare spero veramente di cuore di non trovare navi svedesi. Insomma, li fanno fuori tutti. per imbarco anche in questi paracadutisti. Perché devo andare su questo continente, inutile che rimangano là. Cosa hanno preso gli inca? L'uguaglianza è tempismo perfetto. Che vi devo dire? Cusco, finito il laboratorio di ricerca. Centrale idroelettrica. Guardate che fiume abbiamo. Prendiamo tantissima produzione. San Pietroburgo, il paracadutista. La centrale nucleare richiede uranio. Preferisco tenermi l'uranio per me. Facciamo un santuario perché il prossimo turno possiamo iniziare a produrre le bombe atomiche. Idem qui il santuario perché Novgorod, San Pietroburgo, Mosca faranno bombe atomiche, Pechino farà un'altra bomba atomica e poi devo spostare quattro aeree a Sigtuna e riportare una porta aerei a casa dove verrà caricata appunto di testate nucleari. Intanto dobbiamo ottenere la posizione a Sigtuna. Vedete che adesso gli svedesi attaccano in massa con il loro esercito che forse è ancora più grande del mio? No, li abbiamo superati, bene, però comunque loro attaccano in massa e capite anche il motivo. Il generale dentro, l'artiglieria in città e qui niente, si cerca di sbarcare tutti. Ok, dovranno essere tutti sbarcati. PEM. Facciamo fuori le unità appena possibile. Non devo perdere... Ma vedo che le mie truppe comunque non sono ferite, le mie bombardieri. Cioè, sono feriti, sì, ma poca roba. Questo però lo curerei. Questo no. Questo assolutamente no. Tanto questa unità vedrete che è sicura perché avrà una promozione. E magari, ecco, sposto anche le navi per dare una mano nella difesa. PEM. Ok. Gli svedesi adesso hanno qualche problemuccio. Novgorod, bomba atomica. Bomba atomica a Mosca, bomba atomica a San Pietroburgo, bomba atomica a Pechino. Qui abbiamo un grande mercante ed è fantastico perché lo mandiamo a Mombasa. Tutti fortifichi, tu pure. Tutti si fortificano. Tranne la corazzata invece che avanza. E se io adesso vivessi a Stoccolma cercherei un sito di agenzie immobiliari per trasferirmi. perché ho questa strana sensazione che mi era tutto malissimo per gli svedesi. Però, magari sbaglio, eh. Se sbaglio mi corrigerete. Ah, intanto posso anche, volendo, fare cazzarola. l'artiglieria con il carro è potentissima. Ok. Fortificati, tu archeologo schiatta, tanto non mi servi. La cultura è una cosa che noi russi non amiamo. E questi, vabbè, li spostiamo allora a Sigtuna dove si cureranno. Dove proseguiranno la loro opera di evangelizzazione della Svezia. Ok, avanti. Fra quattro turni la portiera è pronta. Servirà qualche turno in più, pazienza per avere le bombe nucleari. Borsa, a Shanghai è andata. Laboratorio di ricerca, dai. Poi cosa abbiamo? Ah, IBN. IBAN. Cos'è? Lavora in banca. Ah, IBAN, sì, un grande mercante. Capisco. E la pace, vogliono la pace. Ma che tattini che siete, ma che tattini. Venite qua che vi stringo le guanciotte tra le dita. Venite qua. Venite qua, la pace è un cazzo. Allora, adesso le prendete di santa ragione, amici miei. Allora, questi si devono tutti curare. Perché poi quando attacchiamo Stoccolme lo facciamo per bene. Niente, allora qui facciamo un po' di punti esperienza con la nostra fanteria. No, va bene, ho capito. Ti devi curare, ma questa è esperienza facile, quindi. Bem. Si è esperienza facile, però cazzarola se tengono duro ste bestie. Oh, grazie. Cosa, no? Ciccio, eh, fa il bravo. Oh, ce l'ho fatta, è stata durissima, ma ce l'ho fatta. Avanti. Non so quante unità ho fatto fuori di svedesi, ma tantissime. Uh, guarda un po'. Guarda un po' chi c'è, una nuova nave che ci darà una mano. potremmo anche conquistare Helsinki volendo. Sì, la seta tra euro al chilo, va bene. Affiburiamoci, tutti amici. Sì, sì, il ferro te lo regalo, ti amo, ti amo Budicca. Mi piacerebbe prendere Helsinki, ma se prendo Stoccolma li taglio la testa proprio più rapidamente, quindi, ups, ups. I did it again. Ok, perfetto. Vabbè, allora, visto che le nostre navi sono ferme, visto che qui comunque è divertente, ci becchiamo anche i bombardamenti da Helsinki, ma... Tanto mi hanno fatto fuori un'altra nave. E... no, no, il bombardiere, no, volevo l'artiglieria lanciarazzi. Vi ricordo che questa artiglieria lanciarazzi l'abbiamo costruita tipo al turno 90, no, forse 100, 120. Andate a vedere nel video ditemelo, vi prego, perché ci tengo. Era una catapulta che ha fatto tutte le guerre, l'ho sempre promossa, quindi ci tengo particolarmente a questa mità. Cioè, se i disvedesi me la ammazzano, bombe nucleari da qui a fine partita, ve lo giuro, è una promessa. Quindi non possono toccarla, Budicca ci forniva tutto l'amore che aveva e noi, niente, l'abbiamo dimenticata. Mi spiace Budicca, adesso torno da te. No, tu sei la Svezia, merda. No, no, cosa sto facendo? Ecco qua, incenso e rame per spezie e avro. Come? Ti dono che ho il sale? Ah, ecco. Come l'eutrale? Ciccia, uè, uè, cos'è sta storia? Ha dichiarato, guarda, un leader con cui avevi stipulato una dichiarazione di Città, vabbè, ragazzi, dai. Sono cose che capitano, che ti devo dire. Giochi internazionali, abrogare l'ideologia, tu sei pazzo, l'ideologia mondiale ordine è il top. Ragazzi, il tempo è scaduto. Io sono felicissimo di come sono andate le cose, infatti mi sentite bello esuberante perché non ero sicuro dell'esito di questa guerra. Invece vedo veramente che gli svedesi hanno subito tanto e poi soprattutto ho concentrato tutto il fuoco a Sigtuna, l'ho presa subito, loro se la sono ripresa un paio di volte ma ci stava e poi ho praticamente azzerato la controoffensiva svedese e adesso loro secondo me non hanno più soldati, mi sono al primo posto. Le cose vanno alla grande. Il prossimo episodio si prende Stoccolma, si prende Helsinki, si prende Birka, si cerca di fare i bastardoni però se abbiamo la felicità altrimenti ci attacchiamo. Ragazzi, se il video vi è piaciuto un pollice in su noi ci vediamo molto presto. Dario per ora è tutto.